buonasera a tutti ragazzi da me è vicolon è tutto ciao a tutti non far ridere ma comunque oggi ragazzi vogliamo andare all'esplorazione da dopo giustamente come avete visto voi abbiamo trovato la cittadina ma mi sa tanto che troveremo di sicuro la piramide sono sono più che certo quindi io mi porto pesce crudo lo faccio casa il pane lo porto pure le carote li dobbiamo piantare vince io devo andare a mettere la foresta cioè la la fornace nella forte si va bene il porto pure una fornace non si sa mai io sto facendo del pesce del mezzo perché non mi si sente la cuffia pianto le carote ok non mi si sente la cuffia mio fratello non gli si sente la cuffia no non è vero si sente allora si sente piano allora vince io sto cuocendo del pesce facciamo così un attimo modifico l'impostazione 1 2 3 ti sto dando del pane e tre pani li prendo pure io uno li posiamo qua vabbè devo le cuffie e poi abbiamo tre pesci vince ma dove sei? sopra prenditi qua questa roba è un altro pesce lo lascio qua vince quindi abbiamo io un pesce e tre pali io ho due pesce e tre pali e ce n'è una spada una si però mezza pala pala no io ho delle torce quindi sono otto torce le poso le otto me ne porto portiamoci sempre nel legno si portate nel legno qua apposto il piccolo in pietra lo lascio e io me ne sto portando un inferno io mi metto sopra la mia cesta perfetto andiamo all'esplorazione del mio fratello è andato da fabbro e si è fatto da un cappello vedete vai bene bene ah vero l'ho trovata la cesta e vince lo sai cosa faccio? io mi devo creare una spada bravo vince lo di uno spada non ci sono bastoncini si io ce l'ho perché non me lo dice prima vince il basso parma c'è la tabla di brutto sposa per l'icqua 1 2 ma non ci sono creeper si è una notte abbastanza tranquilla vince non mi chiamare perché spunto creeper 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 là c'è un cane tipo ora faccio creeper 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 ci spunto il creeper di dietro mio fratello finisci 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 la soldatando soldatando e vince la vita quindi ragazzi mi sembra cazzo coltese blocco domani ok via dice io che cosa ti ho detto non mi è vero che però che però c'è 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 mi sembrava di grano arrivo per il caffè entri in casa ai i supi ai ragazzi comunque o c'è pure cerca di che cosa vince arrivo su due si va bene dove sei porta in testa ecco la nuova skin di mio fratello spoiler un po' anche se il don zin dovrebbe fare il super mario io no non sono premium messaggino comunque ragazzi da ora facciamo un video al giorno carichiamo perché abbiamo anche la connessione e la comprensione allora vince andiamo all'escorazione c'è un anderman l'attacchiamo no ok dove ci vuole perciò io non so dov'è il villaggio perchè i punti ogni volta che esco dal mondo l'anno si cancellano che schifo vabbò ora lascio l'eredità a mio fratello e inizio a fare video tutorial allora di sicuro di sicuro di sicuro ci sono la piramide mi sono due ci dividiamo e in caso di vincere e tu e vincere e vincere questo quadrato di sembra solo no 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 aspetta quanta ma è troppo piccolo per me esserci uno un modo di scuola mi sembra strana sta salvo ma salvo ma mi sta dalla fin ma non 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 ci dividiamo e ci vediamo in casa al villaggio io mi faccio un punto una virgola tutto tutto di sicurezza tanto non mi ha registrato episodio vabbè se chissà di scuola voi vedo un altro quadratino allora io vado da questo lato va bene appena sta per diventare sera ci incontriamo qua come vuoi allora io vado un altro quadratino soltanto che non dormiamo a far attaccare i villageri se no muoiono vincere te l'ho detto se chissà ci piazziamo fuori dai villageri vincere che combini no niente un cactus ci sono tanti di quei pozzi di lava lo so allora sono sicuro che qua non c'è niente qua ci sono volaggini dove sono io vincere che si può sbagliare come vuoi no niente si ci sono ma no niente che qua colpa ma voglio poi lo so si trova allora qua non c'è niente, la sottocevice la giubb io ho paura soltanto che io non ci vado perchè lago da qua non c'è niente grandi fanno la game qua non c'è niente con la tante c'è qualche non so il cuore il caricatore maria del sole tu sei del mattino non direi che sono lo so per il video i guerrieri dal lontano sport bestia io ti ho detto che non dirmo vabbè ora si fanno video cazzeggi su questa cosa capito? altra lì eh anzi io so all'altra parte della strada la canzone di jazz cioè io riesco a fare fesi con canzone vediamo 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 poi ho trovato la pulata c'è una strana montagna del deserto wow qui c'è si mi butti qua mi faccio male c'è la sono ieri da mondo tatatata-tata-tata-tata se non avete notato oggi mi sono scambiato di skin sono diventato super mario lo spoilerato per prima io aria 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 chi subito di buster aria aria perchè è finita la volta ok cosa che vince io continuo ad andare verso il una donna all'altra c'è qualche duro vado con questo punto del buio no non c'è niente forse c'è la casella strega l'indice mi sono attendo un po' la race mini ma non c'è no si ripresa un quadratino sono andata male io volso versito c'è la tundra tundra va bene cosa la valuta scusata la tundra è oh mucche polli mucche io togli i polli zucche funghi rossi funghi varroni allora io qua gli metto se chissà un puntino un puntino c punto polli 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 perché non ti va bene ci serve polli sono polli 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 ma ci sono molti vertigli un puntino il mio sparisce io non so tu dove sei di preciso aprir la race minima perché tu sei dall'altro lato non ho ricapito che io sono dell'altro lato ma battuta fiii pecore lana finalmente della lana per farti il letto così possiamo andare la notte a dormire a dormire oh sto notando quando hai ucciso la patria ok sto cercando di venire e poi c'è la neve che di sicuro ti ricorderà qualche cosa ma ritorniamo a casa vince va bello c'è un laghetto a ferme di cuore qua sotto figo ok ritorniamo a casa va tanto per oggi la giornata è finita qua ci sono altri polli io mi prendo le uova non spuntate più uova a posto così abbiamo abbiamo due polli in uno vince io ho preso 4 io qua sotto sto ancora viaggiando per un bel po' io sto ritornando tipo indietro c'è una strada un buco un bel quadrato io passo la zai cactus senza vederli ma quando devo riempire questo buco bella bene bella perfetto colpone per di se lo fatto uva e ti credi dell'uomo questo posto dovremo tutte cose amore la carta marcia non è quello che mi interesse lui 2x2 Vincenzo è dentro Aerobrine ti immagini? No, lo sai Vincenzo è lì Voi credete alla leggenda di Aerobrine? Io Ma io l'ho Per me è tutto stato un coso Complotto No, complotto Vincenzo è tolto a casa Sto attivando Sono a 500 Errutti i metri Ho fatto il netto Tutto Creato dalla Mojang Va bene Vincenzo, abbiamo capito All'eserifino Che faccio lo zombie Sono vicino al villaggio Ancora Ma dove cavolo ti disti? Lontano Ti vuoi fare soltanto un giro di perlustrazione Eccolo lo scheletro Ma faccio un giro di perlustrazione Eccolo Un coso? Zombie Un cosino Ecco uno scheletro Che io ci faccio il giro Lui mi sfara il frecce ma io Cioè è cretino io sono qui e lui mi era bussare la porta Ma sei proprio intelligente? Sono abituati alle fobie di ma... Eccolo Alle fobie dei villager In pratica Sondano le porte per pennelli Sì vado come su cretini Mi chiedo per lo pommessere Ti cova Tipo eccetto la qualunque Qualunque mente Sempre mente E' un ragnetto Zombie Sì ma sei tamlessi Viene il ragnetto Ma è vero la cosa Beh Pure a me mi hai fatto attaccare No E che cavolo Prendi la spada no? Intelligente Che becca C'è un creeper che mi ha seguito Ma io Siccome sono furbo Ma va Fa bravo occolo Sono furbo Io corro veloce Via Da qui Attento 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 Vabbè tranquillo Inza dentro va Vieni a dormire va Sta arrivando Comunque ragazzi Per questo episodio E' tutto Ci vediamo Alla prossima Puntata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti